Una natura morta, questa di Elio Beltrano, una trame che si allontana un pochino dalla tradizione ottocentesca perché il nostro autore ha voluto aggiungerci tonalità di colore, impressioni di luce, veramente tocchi che vanno al di là della natura morta in se stessa come è vista nella tradizione. Quindi un'immagine veramente personale che questo artista Elio Beltrame ha voluto offrirci con questa sua opera che piacevolmente raccoglie la luce che gli arriva. Grazie Elio Beltrame